La squadra di oggi era appunto l'attritico pediatrico che è composta da una serie di medici, gli infermieri, i volontari dell'ospedale dei bambini di Parma, volontari di varie associazioni tra le quali l'associazione Gioca Amico di cui sono vicepresidente, è un'associazione di Parma che si occupa di bambini in ospedale appunto e si occupa di portare il gioco ai bambini ospedalizzati. In campo la squadra dell'attritico pediatrico in maglia gialla e la cultura si fa sport la selezione è giocatori con Melli, Osio, Bucci e tanti altri nella squadra invece della cultura si fa sport palla persa pericolosa al limite dell'area, Lanfranchi di Special Olympics serve a destra per Fiore l'organizzatore della manifestazione, il cross è per Walter Perotti, registra il TV Parma, trasforma e finalizza con uno splendido pallonetto il gol dell'1-0 per il vantaggio della squadra della cultura si fa sport bellissimo il gol del numero 13 in maglia blu, Marco Osio dalla destra il suo cross di sinistro la palla ancora per Perotti che viene chiuso, il rinvio, la palla arriva sui piedi di Max Ravanetti la sua conclusione è fiacca, debole, nessun problema per il portiere dell'attritico pediatrico partita però comunque bella ed emozionante specialmente nel primo tempo ecco qui Sandro Melli che ha dimostrato le consuete capacità tecniche anche il suo pallonetto, il tentativo è presa facile di con cari del futuro si fa sport questo è Mirko che quest'estate ha partecipato con la nazionale di calcio a 5 ai mondiali di Los Angeles com'è andato oggi in campo Mirko? è stata una bella partita, ci siamo tutti divertiti a giocare oggi in questo pessimo campo siamo molto felici di essere scesi in campo perché gli Special Olympics quando possono fanno e a noi piace scendere in campo insieme a tutti ringrazio dell'invito per questa bella giornata gli organizzatori mi hanno contattato, è stato un piacere giocare poi ho aperto le marcature, marcatori Melli Perotti guarda, più di così sono felicissimo tanti amici e una bella giornata di sport bellissima partita fatta tra persone che hanno capito il senso di questi incontri nei quali gli adulti si entrano in competizione fra di loro con correttezza, attenzione ma con uno spirito che li condivide assolutamente l'obiettivo cioè fare qualcosa per i bambini, fare qualcosa per far sì che il loro momento in ospedale sia allietato dalla presenza di Gioca Amico una bella giornata soprattutto una giornata di contenuti tecnici, calcistici calcistici eccezionali a parte gli scherzi una giornata bella quando si tratta di fare qualcosa per il prossimo credo che sia un aspetto unico e che dà molta soddisfazione prosegue il match con questa grandissima giocata di Sandro Melli che ridicolizza Max Ravanetti in mezzo al campo il dribbling con il tacco l'assist per un compagno di squadra che prova ad andare alla conclusione ecco dopo il dribbling il passaggio ancora per Melli un po' di accademia la conclusione strozzata palla fuori senza problemi per Concari la volata sulla costiera di destra ancora dell'atletico pediatrico con il numero 7 davvero scattante e vivace per tutto l'arco della partita il passaggio ancora per Melli catalizzatore di tutte le azioni in azione corale la palla arriva proprio ancora Sandro Melli che con uno splendido pallonetto supera il portiere Concari quindi il migliore in campo della formazione della tutela si fa sport bravissimo Sandro Melli che ha dimostrato il dovere di essere in grande forma in questa giornata di sport e amicizia ancora Osio che rientra la palla per Walter Perotti c'è tempo anche per qualche protesta in questa partita mica per un fuorigioco dubbio chiaramente si scherza il clima è stato davvero bellissimo ancora atletico pediatrico che minuto dopo minuto cresce e prende il possesso del campo la conclusione è provata la palla deviata che finisce fuori mi vedete con questo lacrimando sono commosso perché ho visto Marco Osio in campo e mi venite proprio da piangere a parte gli scherzi è stata una bella giornata di solidarietà è stato piacevole giocare ritrovare vecchi amici nuove conoscenze e sono sempre iniziative che vanno premiate che ce ne dovrebbero essere sempre di più complimenti a chi ho organizzato complimenti a Monica perché è quella che mi ha contattato poi comunque so che dietro lei c'è un mondo di persone dunque complimenti a tutti quanti e speriamo che quel poco che abbiamo potuto produrre noi oggi possa aiutare in maniera importante qualcuno in futuro ho visto un Sandro commosso più che altro per la mia esibizione erano anni che non vedevo un calcio così spettacolare le dichiarazioni siamo presenti siamo stati convocati se così si può dire per una manifestazione per un'esibizione che vabbè lasciava il tempo che trova come si dice però l'importante è essere stati presenti l'importante è contribuire sempre di più a giornate a scopo benefico quindi con grande partecipazione ringrazio chi mi ha invitato ringrazio chi mi ha contattato è bene così sperando che sia valza la pena al di là delle esibizioni come dicevo prima dare un contributo personale per questa causa Gioca Amico non è soltanto un passatempo è qualcosa di fondamentale per un bambino ricoverato Gioca Amico vuol dire entrare nel mondo della fantasia e nel mondo della fantasia i bambini non hanno mai paura e non sono preoccupati nel mondo della fantasia i bambini riescono a superare anche le difficoltà che la malattia che il mondo difficile in cui devono entrare potrebbe spaventarli ci prova ancora e siamo già al secondo tempo l'atletico pediatrico molto più fresco a livello fisico la palla per Sandromelli che rallenta serve per un compagno l'azione clamorosa e stupenda parata dell'assessore del comune di Vulseto Luca Concari già ex portiere di calcio dilettantistico ancora Melli scatenato si invola punta la porta uno contro uno pericolosissimo nel numero 11 contro Concari va alla conclusione nessuno gli va incontro è bravo l'estremo difensore ma l'azione prosegue ancora con il tiro a giro contratto l'azione sembra non finire mai ecco ancora Danfranchi che appoggia per l'azione della cultura si fa sport la palla però viene recuperata al limite dell'area ancora per Melli che prova la grandissima giocata conclusione che però finisce fuori non di molto con Concari che sembrava pronto brutta palla persa sulla tre quarti difensiva per la cultura si fa sport la palla messa dentro bellissima viene chiusa però l'ultimo momento conclusione volante palla fuori anche in questo caso è un monologo alla fine per il tentico pediatrico ma finisce una una partita una giornata di sport davvero bellissima dedicata alla soleggianità grazie a tutti grazie a tutti